cosa non voglio parlare con giovanna non voglio parlare con giovanna io devo parlare con giovanna dove sta giovanna sembra là appiccicoso manco fosse un uomo tuo noi stiamo insieme eccola ce la possiamo fare dimmi è meglio che non ti ricordi dimmi non ti ricordi bene eh ma non ti sento bene però non ti sento bene perché da ieri non l'ho capito da ieri non ti senti non ti sento non ti senti scendi cosa dico che sta a fare passeggiata che sta eh solo con i cani poi devo andare a lavorare vieni qua dai Fabio alle otto minchia alle otto Fabio dopo io lo dico alle otto vabbè ma hai fatto pranzo no oh pranzo ho fatto pranzo ma neanche tu l'hai fatto il pranzo che sei a letto Giallo buongiorno ho preso il caffè eh lo so lo so lo so stamattina ti sei svegliato presto stamattina eh ma non si sente ma di Maurizio Fabio dopo guardo oh non si sente un cazzo scendi e risali ciao Fabio ti mangiato il microfono scendi giù perché non si sente ti mangiato il microfono